Si parte da giovedì, ma già da domani gli equipaggi saranno in acqua per testare le imbarcazioni e per provare i campi di regata. Abbiamo cercato di fare una cosa diversa, cioè di integrarci molto di più con la realtà e quindi l'idea di andare verso la gente e non portare la gente al porto. L'idea è quella di esprimere contenuti sportivi attraverso manifestazioni sia in acqua ma soprattutto a terra e quindi da quest'anno avremo manifestazioni localizzate nella Casina delle Palme, che è un posto fantastico dove mi auguro di avere un contesto ideale per accogliere più gente possibile.